Il camion è sotto attacco. Che sta facendo? Blake, UMC, sto portando questi ragazzi in sambo! Così ci fanno andare tutti! Se qualcuno attraversa il ponte, fanno esplodere la città! La fanno esplodere comunque, dobbiamo aprire subito questo ponte! Detective, se lei prova a fare un altro passo, noi le spariamo! Se prova a fare due passi avanti, facciamo saltare il ponte! Ok, tornate sull'autobus e aspettatemi! Tornate indietro! Preparate un convoggio! Mettiamo in sicurezza la bomba fino alla detonazione! Non ucciderlo! Voglio che senta il calore! Sentirai il fuoco delle 12 milioni di anime che hai tradito! Addio, amico mio! Non fermatevi! Andate davanti! Bloccateli sulle scale! Spara! Uccidili tutti! Sappiamo tutti e due che ora devo ucciderti! Dovrà immaginarlo il fuoco! A proposito del fatto niente armi, non penso di volerlo applicare rigidamente come fai tu!